Elemonti giovanissimo ma ormai un decano di quest'aula, com'è il terzo debutto? Sì, insomma l'emozione è sempre tanta anche perché sulle spalle c'è la responsabilità di molti voti conquistati sul territorio, lavorando per il territorio e con questo entusiasmo lavorerò i prossimi cinque anni. La compagine leghista del Varesotto è notevolmente ridotta rispetto a cinque anni fa, maggior lavoro, sanità sarà ancora in primo piano del suo prossimo quinquennio? Lavorerò certamente di squadra con i sindaci, gli amministratori, con Stefano Gandiani, ovviamente con il segretario provinciale Andrea Cassani e con Isabella Tovaglieri. Lavoreremo per il territorio, la sanità chiaramente è un tema su quale mi sono molto speso come Presidente della Commissione, in un periodo molto difficile per il nostro territorio lombardo ma insomma ci sarò, ci sarò per il territorio della provincia di Varese.